bravi per cercarmi ho girato tutti questi ambienti sono andato nei manicomi volete sapere qual è la mia posizione preferita? io ho desotto e mi voglio di fuori a fare la spesa prego giuria peccato la tua ultima battuta hai rovinato un pochino abbassato il livello di una bella esibizione non sono bravi è proprio divertente piacevole, non è volgare, è bello sono proprio contento di avervi visto lei in particolare anche è venuto Paolo? beh io ho riso come sono schiantato dalle risate anzi grazie, grazie infinito vi ho trovato eccezionale bellissima dinamica ma voi state insieme davvero no io ce le provo aspetta selvaggia vi trovo moderni lei nella versione mistress e lui nella versione diciamo così masochista un po' involontario ecco non proprio volontario mi domando se lui in modo particolare ha mai provato qualcuna di queste pratiche perché su di lei ci giurerei vorrei capire se lui ho iniziato che frustavo ma stai entrando nel merito quindi ha iniziato che frustavi ho visto ridere con gusto renato è vero che ne pensi? che onore sono divertenti poi è simpatico anche il fatto che si divertano pure loro è vero vuol dire che sono tranquilli e sanno di far bene il loro mestiere ecco grazie 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 mille i tre giurati cosa dicono i tre giurati? va a tutta la vista Paolo sì Diego sì Selvaggia sì ha messi al voto finale